All in! Avanzate! At any rate, that is what we are going to try to do. Yes, sir! Informazione! A chi sta? No, io non moverò più! Signora, rimani, signora! Prendetemi per pazzo, sì? Pazzo per Gesù. Abbiamo ululato. Un po' di pizionca. C'è paura un po' quando c'è il foglio, anche dei carabinieri. Fare uso di sostanze stupefacenti.